Musica Buonasera, bentrovati su Teletruria per un nuovo appuntamento con l'informazione, la cronaca, tragico episodio all'ospedale San Donato di Arezzo dove è stato letteralmente scaricato in gravissime condizioni un uomo di 59 anni che poi è morto, vediamo Una brutta storia ma soprattutto una storia triste, indagini in corso da parte della polizia e un'autopsia che sarà disposta dal magistrato così come richiesto dal medico legale per capire l'esatta causa della morte di un 59enne aretino letteralmente scaricato nella camera calda del pronto soccorso di Arezzo secondo quanto ricostruito dalla polizia insieme al personale sanitario un'auto è arrivata nella zona che sta tra il primo e il secondo ingresso del pronto soccorso la cosiddetta camera calda ed ha lasciato a terra l'uomo i soccorritori sono arrivati subito e si sono resi conto che il 59enne era a Cianotico vani i tentativi di salvarlo perché l'uomo è morto poco dopo pare che avesse addosso i segni di utilizzo di droga i poliziotti in servizio avrebbero subito inviato una foto ai colleghi della questura che hanno identificato il corpo del 59enne già loro noto il medico legale dovrà ora stabilire quando effettuare l'autopsia la polizia ha a disposizione le immagini delle telecamere anche se pare che la targa non sia stata inquadrata ma sul caso vige ovviamente il massimo riservo resta l'amarezza di un abbandono probabilmente per paura e di una vita finita così catena umana per salvare un ottantenne caduto nel canale della Chiana è accaduto sabato scorso i soccorritori entrando secondo quanto spiegato dalla polizia sono intervenuti entrando nelle acque del canale hanno improvvisato una catena umana dopo averlo recuperato hanno portato l'ottantenne in elisoccorso all'ospedale di Careggi di Firenze dove tuttora si trova ricoverato in prognosi riservata le multe con l'autovelox non sono frequenti ad Arezzo ma per limitare l'incidentalità in certe zone servono siamo andati lungo la regionale 71 in un punto molto caldo ci troviamo a Vitiano lungo la regionale 71 una delle strade più pericolose della Retino ma anche della regione toscana questo in particolare è un punto triste perché ricorda un gravissimo incidente accaduto ormai oltre un anno fa dove ha perso la vita la giovane Federica Canneti grazie anche alla mobilitazione successiva all'incidente grazie all'impegno delle amministrazioni comunali grazie un po' come abbiamo detto al dibattito che è nato intorno alla regionale 71 qui sarà sistemato un autovelox nel comune di Arezzo non sono molti si preferisce un controllo immediato con il telelaser ma la dritta che da Castiglion Fiorentino porta fino a Vitiano e quindi nel comune di Arezzo spesso è teatro di incidenti a causa dell'alta velocità qui le macchine raramente rallentano ci sono delle abitazioni, ci sono degli esercizi commerciali e dunque qui sarà posto l'autovelox abbiamo sentito dal comandante della polizia municipale di Arezzo Poponcini non ci sono numeri elevatissimi per quanto riguarda le multe proprio con autovelox ma qui si rende sicuramente necessari controlli controlli che saranno comunque fatti anche con pattuglie proprio per evitare che la regionale 71 così come anche molte altre strade come per esempio la 73 o la 69 nel territorio aretino possano diventare davvero teatro di incidenti gravissimi purtroppo in molti casi mortali Ancora un incidente stradale sulla Sette Ponti disagia al traffico è avvenuto nella zona di Quarata La strada è quella che è, è la Sette Ponti e richiede attenzione oltre agli incidenti accaduti nelle settimane scorse all'altezza di Ponte Buriano in prossimità dell'innesto al ponte provvisorio un altro tamponamento è avvenuto stamani all'altezza del bivio a Valle di Quarata Lo scontro ha coinvolto un camioncino che trasportava una piccola ruspa e una panda L'impatto è stato piuttosto forte Questa è la situazione del traffico così come si è presentata dopo lo scontro Nessuna persona è rimasta ferita Solo un po' di spavento in particolare per gli occupanti dell'utilitaria Sul posto è intervenuta la polizia municipale Il traffico è stato prima bloccato e poi fatto riprendere a senso unico alternato In entrambe le direzioni si è formata una coda piuttosto lunga tenuto conto che l'ora in cui è accaduto l'incidente è quella degli spostamenti di inizio mattina Dopo i rilievi il mezzo è stato portato via dal carro attrezzi e la strada poi è stata liberata Quanto è accaduto ripropone ancora una volta le insidie di quel tratto di strada Un tratto che richiede particolare prudenza, che invita alla velocità e che rischia di creare pericoli improvvisi per la presenza di alcune strade laterali Da tempo CNA è impegnata nel far incontrare la scuola con il mondo del lavoro e stamani ha presentato i risultati di un'indagine che mette in luce il divario da colmare Da un lato le esigenze delle aziende, dall'altro le aspirazioni dei giovani CNA si domanda come far incontrare queste realtà nell'epoca della denatalità e del ricambio generazionale specialmente nel manifatturiero e nel loro in particolare Gli artigiani chiedono mano d'opera, più dell'85% delle imprese che noi abbiamo intervistato ha difficoltà a trovare laboratori Questo è un fenomeno epocale, che è uguale un po' in tutta Italia e che quindi stenta a trovare una risposta da parte di giovani che sono sempre di meno Essendo di meno, i giovani per la prima volta nella storia, i laboratori hanno il potere dalla loro parte perché possono scegliere E i giovani quindi si aspettano qualcosa di più e di diverso che non il semplice posto del lavoro E si aspettano un ambiente di lavoro piacevole, la possibilità di crescere a livello individuale la certezza del posto del lavoro, quindi la sicurezza intesa a 360 gradi e solo in terza posizione il guadagno Il guadagno non è più così fondamentale Cosa emerge dal mondo del lavoro? Quali sono le esigenze dei vostri artigiani, dei vostri imprenditori? Emerge prima di tutto una carenza di disponibilità al lavoro Quindi questi incontri che noi facciamo con la scuola Questo è il primo che ha questa risonanza, questa importanza Per oggi abbiamo già incontrato singolarmente molte scuole Alcuni ragazzi sono stati a visitare le nostre aziende E i riscontri sono molto positivi In quanto i ragazzi hanno dimostrato molto interesse E incominciano a capire qual è il mondo del lavoro reale 3Z Group acquisisce il 100% del tacchificio PN Società specializzata nella produzione di tacchi, zeppe, platò, zoccoli in legno E accessori per calzature formali da donna A seguito di questa acquisizione il gruppo si appresta a inaugurare un nuovo reparto Modelleria nella sede di Montelupo Fiorentino Fondato nel 1966 a Montevarchi da Duilio e Sira Palazzini PN lavora con le più importanti firme mondiali Sulla crisi dell'agricoltura la CIA Toscana ha incontrato a Firenze Il governatore Eugenio Gianni e l'assessore Saccardi per chiedere misure urgenti Gestione dell'acqua, emergenza, ungulati e dare valore alle produzioni agricole Questi cardini del confronto fiorentino tra CIA, agricoltori italiani della Toscana e la regione Abbiamo rappresentato al Presidente Gianni e alla Vicepresidente Saccardi Di quelle che sono le problematiche più importanti per l'agricoltura Quindi l'emergenza acqua, la redditività dei prodotti agricoli e il problema degli ungulati o comunque dei predatori in generale Problemi che mettono in grave difficoltà la vita delle attività agricole Per cui serve ovviamente uno scatto di energia, uno scatto di attenzione, uno scatto di risorse Affinché le aziende agricole possano superare questo difficile momento Si va verso il varo di un pacchetto di nuove misure a livello regionale, questo vi è stato assicurato? Sì, il 2024 sarà un'annata importante, ci sono risorse significative che la regione ha messo in campo in aggiunta a quelle della Comunità Europea E su quel pacchetto di misure credo che ci saranno importanti novità sia per quanto riguarda l'aspetto irriguo Già nei prossimi settimane dovrebbe essere inaugurato un altro pezzetto del distretto irriguo in Valdichiana Sia per quanto riguarda la filiera dei vari prodotti agricoli Cioè consentire l'agricoltore di avere una maggior redditività da quello che produce Perché oggi veramente le situazioni sono veramente complicate e difficili Ovviamente sono le stesse priorità, le stesse tematiche che vengono portate sul tavolo dagli agricoltori indipendenti Ma certo, gli agricoltori vivono tutti a contatto con la natura, con la loro attività, con il loro lavoro Quindi i maggiori costi energetici li hanno subiti tutti Il problema della burocrazia lo vivono tutti allo stesso modo Poi ci sono realtà più o meno grandi che subiscono maggiormente o meno le difficoltà economiche Ma in generale il quadro dell'agricoltura del 2023 è stato veramente veramente difficile Sono aumentati pericolosamente i disagi psicologici e anche psichiatrici di ragazzini e adolescenti A rettini dopo la pandemia se ne esce male perché il sommerso dei casi è più alto di quanti raggiungano i servizi sociali o le ASL Su questo tema si è aperto il Festival della Salute Mentale Dal 20 al 24 febbraio l'università e non solo saranno al centro del Festival della Salute Mentale Ci voleva, visto che comunque alla salute mentale vengono destinate sempre meno risorse Sì, sempre meno risorse e diciamo che oltre che sempre meno risorse ci sono sempre più problemi Noi oggi siamo qua per parlare di giovani, per parlare di adolescenti, per parlare di disagio Dei nostri giovani che sono sempre più soli, vivono in una condizione spesso di povertà relazionale, di povertà educativa Non per causa della scuola ma per causa di contesti difficili in cui è difficile molto spesso anche operare Lavorare insieme ai ragazzi può essere anche una forma di aiuto congiunto? Sicuramente, sicuramente Per esempio questo lancio del contest che avverrà i 23 mattina Vedrà protagonisti i nostri studenti delle scuole medie superiori di secondo grado Insieme agli insegnanti, ai docenti, insieme a Lorenzo Baglioni Quindi sicuramente lavorare con i ragazzi è una risorsa perché loro vogliono il benessere Loro ce lo chiedono Non è tanto i ragazzini che arrivano da noi il problema Sono quei ragazzini che noi abbiamo chiamato nel progetto delle città invisibili Gli invisibili, cioè il sommerso dei ragazzini che stanno male ma che non arrivano ai servizi Quindi non hanno la possibilità di cura O perché non riescono a esprimere il disagio O perché il disagio che esprimono non viene raccolto Se non già attraverso forma di patologia Nuovo caso di stalking nell'Alta Valle del Tevere con un giovane di 20 anni Arrestato per aver perseguitato una 17enne Perseguitava da tempo una ragazza di appena 17 anni Fino a che non l'ha seguita nel treno e a fronte del divieto di avvicinamento Già emesso a suo carico lui è stato arrestato Si tratta di un ventenne di origine straniera da tempo residente a città di Castello L'uomo si era reso responsabile di comportamenti lesivi e persecutori Nei confronti di una ragazza di appena 17 anni Che lo aveva denunciato e lo scorso 9 febbraio Era stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa Qualche giorno dopo però incurante di questo provvedimento Alla stazione ferroviare di Trestina saliva sul treno Che collega città di Castello a Umbertide Proprio nell'orario in cui la studentessa era di ritorno da scuola E ha iniziato ad insultarla La ragazza ha chiamato immediatamente il 112 Con i carabinieri di Umbertide Che lo hanno assicurato la giustizia Presentato oggi il progetto civico degli aretini rampanti Un gruppo capitanato da Giovanni Grasso Che ha chiamato a raccolta anche alcuni politici Alla loro sede di via di beccheria L'obiettivo è di essere sopra le parti E a politici e di suggerire cosa non va a chi governa la città Nasce ad Arezzo una nuova associazione Nella città del Cavallino Rampante Ecco gli aretini rampanti Siamo un gruppo di giovani civici Che vogliono rimanere tale Che chiaramente rappresentano tutto il settore Di questa comunità aretina E che vogliono dare dei contributi Delle idee fattive A quelle che è le associazioni Che chiaramente caratterizzano il territorio Ma soprattutto anche alle istituzioni Quindi non vuole essere un'opposizione Non vuole essere un'amministrazione Ma vuole essere un cittadino Che si mette al servizio di una comunità Per dare delle idee Il nostro sostegno alla città Chiaramente né con l'amministrazione Né con l'opposizione È quello di creare dei temi di dibattito Fondamentalmente Di portare un approccio Delle possibilità Chiaramente anche per le generazioni future Andare a sviluppare E cercare di migliorare Tutte le tematiche che ci sono nella nostra città Mi hanno invitato e sono venuta molto volentieri Perché tutto ciò che si muove Per dare un contributo Di critica Ma di suggerimento Di supporto, di aiuto Credo che sia un elemento di grande ricchezza Per la città di Arezzo Quindi Giovanni Grasso Lo conosco da tanto tempo Conosco da tanto tempo Molti di queste persone Ma soprattutto quello che conosco È la volontà di fare sì Che l'impegno non sia una dimensione puntuale Ma una dimensione strutturale Spero che questa iniziativa Fatta da maggior parte Da giovani Ma la nostra associazione spazia Dai 14 ai 99 anni Quindi si può essere giovani Ci si può iscrivere tranquillamente Possa essere un contributo reale A quella che è La crescita di una comunità intera Tre dei quattro capigruppo Di centro-destra Hanno inviato una lettera Al presidente del Consiglio Comunale Di Arezzo Luca Stella È firmata da Simon Pietro Palazzo Per ora Ghinelli Da Federico Rossi Per la Lega E da Francesco Palazzini Per Fratelli d'Italia All'interno la richiesta Che i prossimi consigli comunali Già calendarizzati Vengano convocati alle 14 Quindi non più alle 9 di mattina Come classicamente avveniva di solito A partire da quello del 29 febbraio La richiesta non è stata firmata Da Forza Italia Da quello che trapella Le motivazioni Per le quali i tre capigruppo Avrebbero fatto questa richiesta Stanno nel fatto che Nel caso del 2 febbraio Iniziato alle 14 C'è stata un'esperienza positiva E più efficace La Lega è compatta E appoggia il centro-destra Lo ribadisce il segretario provinciale In merito al caso Cortona La Lega appoggia in modo convinto Il centro-destra A Cortona Così come negli altri 25 comuni In cui si rinnovano Gli organi amministrativi La posizione del partito È chiara e lineare E non lascia spazio A dubbio o deduzioni Ma soprattutto La Lega Lo ribadisco con forza È unita e compatta Così il segretario provinciale Gianfranco Vecchi Che precisa Coloro che sono usciti dal partito È evidente che non ne fanno più parte Il segretario provinciale Poi nel prendere atto Delle dimissioni Presentate a Cortona Dall'assessore comunale Alessandro Storchi Lo ringrazia per il lavoro Fatto in termini Soprattutto di sicurezza Del territorio Le dimissioni Dell'assessore Rimangono in linea Con la scelta del partito Dunque attualmente Non sarebbero previste Ulteriori dimissioni Un convegno per educare i giovani Ai valori di pace Solidarietà Toleranza E giustizia sociale Venerdì 23 febbraio A partire dalle 9.30 La Borsa Merci In piazza Risorgimento Sarà sede di un incontro Dal titolo Essere costruttori di pace Parteciperà il missionario Comboniano Daniele Moschetti Che condividerà la propria esperienza Con gli studenti Delle superiori La mattinata Aperta la partecipazione Di ogni cittadino E promossa Dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Open Day dell'Università Per i ragazzi Dell'ultimo anno dei licei Che dovranno scegliere La facoltà Dopo le superiori Il campus di Arezzo Propone anche alcune novità Con Simone Amicali Presidente del campus universitario Del Pionta Parliamo di questo Open Day In una giornata importante Che vede l'avvio Anche del Festival della Salute Ma restiamo su quella Che è l'offerta Dell'Università di Arezzo Distaccata da Siena Abbiamo qui le nostre aule Piene di ragazzi Delle scuole superiori Che vengono Per sentire che cosa Si studia All'Università di Siena In particolare Nel campus di Arezzo Quindi abbiamo già L'anno prossimo L'offerta arriverà A 14 corsi Tra laurea magistrale E laurea triennale E abbiamo anche due novità Due novità importanti Devo dire Siamo molto contenti Di far partire Questi due corsi Il primo È una laurea Quinquennale Abilitante In scienze Della formazione Primaria Quindi quella Da cui verranno fuori Gli insegnanti Di scuola elementare E di scuola materna E la seconda È la nuova laurea Abilitante Per la professione Dei geometri Che verrà insegnata Nel nostro polo Scientifico Tecnologico Che è il centro Di geotecnologie Di San Giovanni Valdarno E sarà la laurea Obbligatoria Per esercitare La professione Dei geometri Quali sono i corsi Che vanno per la maggiore? Sicuramente Qui ad Arezzo Tanto l'area delle lingue Quanto l'area Della formazione Quindi Scienze della formazione Primaria È stato avviato Proprio per questo Perché c'era Una grande richiesta Lingue invece Lingue per l'impresa E lo sviluppo Che è triennale Più magistrale Ha questo importante Doppio titolo Con l'Ateneo cinese Di Wenzhou È uno dei pochissimi Doppi titoli triennali In tre anni Si prende una laurea Valida in Italia Valida in Cina Con due anni passati in Cina Insomma è una cosa Molto interessante Il parco letterario Emma Perodi E l'Università Dell'Età Libera Di Bibiena Continuano a mantenere Attuali le letture Delle novelle Della nonna Attraverso la lettura Ad alta voce E l'arte Della pittura Mentre a Bibiena In pieno svolgimento Il festival del libro Ecco il ritorno Delle novelle Della nonna Con l'Università Dell'Età Libera E il parco letterario Che ricordano come Emma Perodi Sia stata importante Per la cittadina Casentinese Tanto è Che la leggenda Della Mea Nasce proprio Con questa scrittrice Giornalista Ed un suo racconto Abbiamo pensato Di entrare appunto Anche come Associazione Uniel Università Dell'Età Libera Di Arezzo Con la sede Distaccata Di Bibiena Proprio perché Come vedrete Abbiamo dieci Lettrici Che leggeranno Dei passi Relativi Proprio Alle novelle Di Emma Perodi Tutto questo Nasce in un progetto Che si chiama Infinite Corrispondenze Quindi Corrispondenza Fra arte E letteratura Ed è molto Importante Il fatto Che molte Di queste persone Abbiano In questo modo Letto queste novelle E molti pittori Sia professionisti Che appassionati D'arte Si siano dedicati Veramente Con grande interesse E partecipazione A questo progetto Per rinnovare Un po' Anche la tradizione Del carnevale Noi Della mia generazione Ormai anziani Siamo nati Con le novelle Della nonna Ne abbiamo avuto paura Le abbiamo vissuti Poi c'è stato Un periodo Di oscurantismo Come se fosse stato Celato un po' tutto E quindi riportare Ai giovani Riportare un po' Sul territorio Questa conoscenza Questa è un po' La nostra vocazione La nostra voglia Se una signora Così importante Come Emma Perodi Si è appassionata Del Casentino Più di cento anni fa Perché non Spronare i nostri giovani Appassionarsi Della nostra valle E a tenere duro A vivere qui E a dare appunto Il loro contributo A crescere Come comunità Questa sera Dopo il nostro Telegiornale Potrete assistere A Newsline Dentro la notizia Che si occupa Dell'installazione Di cassonetti Per i rifiuti Interrati Ad Anghiari Al termine 9 e 10 Spettacolo A cura di Barbara Perissi La serata Proseguirà poi Con Ben Godi Dedicato al Novel Food Alle 23 Straordinario appuntamento In diretta Con in compagnia Di Alessio Ed è tutto Per la prima parte Del nostro Telegiornale Adesso come di consueto Le previsioni del tempo Lo sport E i nostri programmi Grazie per averci seguito E arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti